Per chi non ha più vent'anni, il ricordo della passerella in ferro che sovrastava la tangenziale ai binari della ferrovia collegando Marghera con Mestre è ancora vivo. Un manufatto oggi impensabile per come era stato concepito, ma finché c'era unito due anime di una stessa città. L'idea di una piastra, un ponte trasparente che di nuovo unisca la città Giardino di Marghera con il cuore di Mestre è più che un'ipotesi campata in aria. Il Comune di Venezia ha sottoscritto un accordo con cui si stabilisce che la nuova passerella si può fare, la famosa piastra sopraelevata che nel lato di Marghera confluirebbe nel parco di Via Uloa, attualmente area degradata e sulla quale c'è un progetto di riqualificazione urbana che prevede la costruzione di un nuovo albergo, di edifici direzionali, commerciali e residenziali. Valorizziamo una funzione e creiamo con questa stessa funzione un collegamento tra due parti di città, per cui rendiamo più vivibile la città. Lo disegneremo già, io penso in autunno, lo dicevo prima, con degli alberi colorati, colorando le vie che partono dal centro di Mestre e arrivano al centro di Marghera, proprio perché sia visibile questa possibilità di passeggiare e di vivere la città in maniera sicura. Questo lo faremo anche tramite queste operazioni e tramite un'operazione che è importante, che facciamo da anni e continueremo a fare, che è quella della sicurezza, della pulizia delle strade attraverso le nostre forze dell'ordine. Abbiamo sottoscritto e concluso l'iter di sottoscrizione dell'accordo di programma che vede la stazione di Venezia Mestre in un progetto di riqualificazione, di trasformazione da un punto di vista di mobilità in un hub della mobilità, di integrazione di diverse modalità di trasporto, gomma, ferro, tram e soprattutto di ricucitura storica di quella frattura storica della città. Come si arriverà al progetto esecutivo? Beh, sono molti soggetti che partecipano a questo accordo, la cosa importante era chiuderlo sulle parti strutturali e funzionali, cioè Salini consente, l'area di Salini che è quella di via Uloa, per capirci, vicino alla città, un'area, lo dico per chi non conosce Marghera, totalmente degradata e abituata a vedere situazioni di ogni genere, viene restituita con costi privati alla città, è bellissima insomma, però Salini accetta di far atterrare la piastra o il percorso che verrà poi studiato e progettato a ferrovie e se non fosse ferrovie da qualcuno che sarà un privato, che il Comune metterà in gara e in cerca, speriamo sia ferrovie. E davanti altri tanti soggetti, ci sarà chi parte prima, chi parte dopo, chi compra, chi vende, è tutto pubblico comunque, però non c'è un unico soggetto, sono tanti soggetti che svilupperanno le aree. Sicuramente per parte del Comune noi recuperiamo un pezzo di area verde del Piraghetto che verrà allargata, dove ci sono i binari, verrà tolto tutto quel degrado dove verranno fatte case residenziali belle da quella parte, davanti invece viene restituito anche lì una connessione con nuovi alberghi, con altre strutture ricettive, piuttosto che commerciali o direzionali, proprio per consentire anche la sostenibilità economica dell'opera. Ferrovie dello Stato si è presa sei mesi di tempo per uno studio di fattibilità dell'opera e se non dovesse ritenerla perseguibile dall'ente pubblico, partirebbe la gara privata.